A Milano oggi e domani sono stati organizzati gli stati generali della cannabis, una manifestazione che punta a sostenere la proposta di legge all'esame della Camera dei Deputati per la legalizzazione della coltivazione nelle mura domestiche di un certo numero di piantine di cannabis e in generale per abbassare le difese che l'ordinamento ha nei confronti della diffusione di questo tipo di droga. Nel pomeriggio di oggi a Milano il Centro Studi di Vertino, il network di associazioni che ha la denominazione Sui Tetti, organizza una riflessione di carattere anzitutto scientifico, poi criminologico, poi giuridico e con una prospettiva volta a recupero dalle tossicodipendenze, il cui filo conduttore è che a differenza di quanto continuano a sostenere larga parte di media, di influencer, la cannabis fa male. Non è una droga leggera, non lo è intanto perché produce sempre un'alterazione sul piano fisico e psichico e poi perché rispetto a 30 anni fa, oggi grazie a vari dispositivi di carattere tecnico manipolativo, il principio attivo in essa contenuto, cioè quello che provoca l'effetto drogante, è 20, 30, 40 volte più potente di quello che era quando la droga ha iniziato ad essere un fenomeno di massa e questo ha come riscontro ciò che ogni anno è contenuto nella relazione della presidenza del Consiglio del Dipartimento Antidroga e cioè che aumentano i ricoveri ospedalieri che ormai sono diventati una quota significativa da intossicazione soltanto da cannabis e aumenta la propensione attraverso la cannabis a fare ricorso a sostanze come soprattutto la cocaina. È qualcosa con cui non si scherza. L'esperienza di altri stati nei quali la legalizzazione avvenuta è un'esperienza terrificante. Aumentano i reati, aumentano gli incidenti stradali, ma aumenta soprattutto, e questa è la cosa più grave, la quantità di giovani e meno giovani che acquisiscono la dipendenza e quindi non sono in grado di mantenere i più elementari doveri di solidarietà sociale. Ecco, la cannabis non ha una finalità di mettere insieme, come si dice, ricreativa e socializzante. È l'esatto contrario della socializzazione perché sottrae chi la assume dall'adempimento di quei doveri elementari di solidarietà a cui ogni ordinamento, a cominciare dal nostro, a cominciare dalla nostra Costituzione, richiama ciascuno di noi. Grazie.